Perché Lughe è Lughe, 43 servizi Guarda che merda, è qua dentro Che cazzo è qua dentro, è qua dentro, è qua dentro Ma fanno schifo questi, ma dai Io uno, io ho fatto 74 in 5, perfetto Ragazzi è la prima partita della sessione di oggi proprio Che palle, sempre da dietro sti cosi qua Ma guarda quello ancora là dentro Vabbè devo iniziare a sclerare adesso Mori Oh che palle Ho visto, lo so dove sei Lu Oh, avete rotto le palle Morto Guarda questo che ha rotto le sue Indian boss Ma dai Due persone mancuno Vabbè vaffanculo l'ho ucciso Vieni qua, vieni qua Lu, vieni qua No no, non ci chiamo di... No no, si gioca a serie Sì sì, appunto, ma... Eccolo, eccolo là che muore Guarda che schifo Eccolo, eccolo lì, lo vedo, lo vedo No no, io non ho parole, guarda non ho parole Aia, da dietro Ma dov'è? Ah, aia Guarda dov'è, guarda dov'è Guarda dovrebbe spuntare qua Dovrebbe spuntare qua Eccolo qua Oh, di crepare devi Ma guarda che lo crepo! Da dietro ancora! Sto Indian boss e gli piace il culo, sempre da dietro Mi piace? Dove lo sei? Dove lo sei? Senza neanche un minimo di allenamento Io non lo so No, ma proprio più freddi freddi Siamo partiti in questa mappa Sì, guarda come sparo Sembrano una... Guarda dov'è Guarda dov'è Guarda dov'è Guarda quello che non crepa Porca miseria Ma campero anch'io Ste brutte vacche Guarda questo! Sempre l'injabbo sta dietro! No! 76 in 6 In 3 Ah porca miseria Perché mi sparo da dietro? Non mi ha fatto un'animazione Oh è questo? Ok E' quello? Ok Guardalo Guarda il dia boss Ancora da dietro la prenda Ok qua ce n'è uno Qua ce n'è uno C'è la punta Preso Preso Mamma mia No vabbè Sto fatto 65 E' lui Mamma mia Sei zitto Sei zitto eh Lo stai? Sei zitto eh Lo stai? Ok Oh la doppia! Madonna ho fatto collateral Aia Ho fatto collateral con l'AM Con l'autosnipe Mamma mia No 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 Questo qui è il yuk Mori! Chip sono una merda Chip ho fatto un collateral della madonna Guarda dove è Guarda dove è Bastardo da dietro Guardalo Guardalo Aiuto aiuto Non è morto? Oh 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 C'è qua dietro ancora Attenzione E' ancora qua? E' morto? Ha fatto a sopravvire Vero è quello Vabbè Sì certo Perché mi entrerà un cacchio di colpo No? Oh! No sto sparando di merda oggi Porca miseria di merda oggi qui mi ha zompato proprio ah 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 da dove ma dai ok è reso mamma mia che spray mamma mia che spray guarda dove io so con la vp dai ma io sono primo io sono secondo ma arrivano le pistole non faccio più un cazzo guarda sta a posto ah perché rush dovete camperare come fanno loro ok la pistola dai che era fermo quello tutto visto a morire è morto brutalmente soprattutto cosa no vabbè quest'altro è campionato ancora qua qua sotto ho fatto la cazzata che ho fatto la cazzata grossa pure è questo maronna che guarda questo sembra dietro quest'altro pure è morto dove sei dov'è dov'è il nemico non sono più primo ma ti rendi conto morto perfetto nice dov'è eccolo la morto vai dai signor chip uh dai porca boia porca cotogna ah mi sono bloccato che cacchio ah è uno lì oh mio dio oh mio dio oh mio dio chip ma dove occhio che ce n'è uno lì oh questo che non crepa 37 in due ma ti ho preso in testa io non le odio le doppie berette qua non è morto a 93 non è morto in due giusto per sapere oh oh ah lui morì oh chip ma ti ma ti perché ti attenzio dai che ti attaccato quanto odio le doppie berette ma che cazzo muori dai ai difendimi devo cambiarle devo cambiarle fanno schifo le odio le doppie berette no invece sono belle da sotto preso ok ho cambiato l'arma meno male meno male mi manca una kill mi manca una kill ma no mi manca una kill dai c'hanno il cortello qualcuno c'è il cortello lui ok dov'è dov'è ah vabbè ma da dietro ok la porta miseria è quello cosa ok ok certo dai morto dai ok dai 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 cosa dove sei camperato dai non ci sto credo non ci sto credo e si vince e si vince e si vince signori 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 ho vinto ragazzi un bacione abbraccio da luca e chip è tutto ho vinto ne vi aspettiamo alle 19 live ciao a twitter box link descrizione che descrizione